ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene allora nuovo video per parlare un po con voi e per stare appunto un po assieme allora innanzitutto volevo dirvi buona domenica a tutti e tutti e niente dunque innanzitutto un caldo allucinante anche oggi ha piovuto non so quanti giorni magari forse due stanotte e ieri mattina non mi ricordo e nulla mi sono svegliata con la pioggia non so se ve l'ho detto non mi ricordo quindi perdonatemi non ne vogliate se vi ripeto le cose mille volte ma veramente non mi ricordo quante volte ve l'ho detto e nulla sono qua per fare il mio bel letto perché veramente non si può vedere di com'è e niente ci vediamo dopo al letto fatto ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Soprattutto a sudato che è una cosa incredibile. Ciao. Ora, chiudo il video e vi saluto perché tanto, vabbè, non ho idea di che altro parlarvi. Tanto l'altro mi stanno capendo un bel torcicollo, vabbè. Ciao.